Un repertorio in un periodo in cui l'Italia in effetti subiva un po' di supremazia agli Stati Uniti che si parla del video dello swing, ma non mi danni, un bellissimo arrangiamento del nostro Matteo quando canta la bagliata non si sa mai se la gente come dico quando canta la bagliata o se la gente fa il arrangiamento di Matteo non mi danni, un bellissimo 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 arrangiamento di Matteo Grazie a tutti. Grazie a tutti.